Ha scelto la piazza per presentare la sua lista Michele Urbano, candidato sindaco di Larino e assessore uscente alle politiche sociali. Nella sua squadra tanti volti nuovi ma provano il bis anche diversi amministratori. Impegno, dedizione e onestà, le parole con cui Urbano ha esordito, sottolineando l'importanza di continuare un percorso che ha comportato sacrifici ma che ha prodotto anche dei risultati. Questa, secondo Urbano, che di mestiere fa l'avvocato è la base per costruire qualcosa di nuovo per la città. Da qui ha preso spunto anche il nome della lista Esperienza e Rinnovamento. Perché di fronte a chi dice i vecchi sempre tutti a casa e tutto nuovo noi diciamo che questa cosa non basta e non paga. Diciamo che al rinnovamento va affiancata l'esperienza e sullo scenario politico larinese ciò che è la vera novità è appunto mettere insieme l'esperienza e il rinnovamento. La storia di questa comunità parla da sola. Sempre si è inseguito il rinnovamento e sempre. Tutte le amministrazioni hanno avuto un notevolissimo ritardo perché è inevitabile. Chi parte da zero deve impiegare almeno sei mesi, un anno ma qualche volta anche di più per poter capire anche il solo funzionamento della macchina amministrativa oltre ai problemi. Noi siamo avvantaggiati. Diverse le iniziative in campo per la città a partire dal miglioramento dell'arredo urbano ma si punta anche sullo sviluppo delle attività commerciali e artigianali. Tra i progetti la costruzione di un'area per la fiera d'ottobre e per cui già si è ottenuto dal FAS un primo finanziamento di 1.860.000 euro. Sul percorso della trasparenza invece l'obiettivo è quello di indire una giornata del cittadino con cadenza periodica in cui informare la popolazione sulle attività in corso. Uno dei sogni invece come viene definito ma che presto potrebbe diventare realtà è l'abbattimento del viadotto Augustus considerato una bruttura per la Rino. Il tema prioritario è la riorganizzazione, partiamo da quello, la riorganizzazione della macchina amministrativa e burocratica perché ha bisogno di essere riorganizzata e perché un'amministrazione che ha una struttura burocratica che non funziona non può poi portare a termine i progetti. Per tutto quanto il resto così in una parola puntiamo a migliorare la qualità della vita dei nostri residenti ma anche di tutte le persone che verranno a Larino a visitare le nostre opere d'arte, i nostri siti archeologici.